Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotessi. Ho creato oggi una nuova poesia dal titolo Tranquillità. Spero che dopo la condividerete su tutti i contatti Whatsapp e se non siete ancora iscritti al mio canale Youtube, digitate Savinotessi e attivate la campanellina delle notifiche. Ho creato questa poesia perché la vita è un percorso difficile e molto ambiguo e serve molto orgoglio positivo, quello buono, quello proficuo, non l'orgoglio del cuore, l'orgoglio quello che ci caratterizza dagli altri per la bontà, per l'intelligenza, per la passione lavorativa che mostreremo in questa vita. La calma e la tranquillità quindi donano tante ludi e speranze degne di pace e proficua e così creando una fede nelle varie circostanze. La tranquillità quindi fa ragionare e porta anche le più bollenti menti a calmarsi e a riflettere per il futuro. Vi leggo appunto la poesia dal titolo Tranquillità. La vita è un percorso difficile e molto ambiguo e serve molto orgoglio, quello buono e proficuo. La calma e la tranquillità donano tante ludi e speranze degne di pace e proficua fede nelle vere circostanze. La tranquillità fa ragionare e porta anche le più bollenti menti a saper riflettere e pensare per affrontare i problemi più gravi. Armati di tanta saggezza, le degne decisioni eseguiremo sarà la vera fermezza ad aiutarci in ciò che faremo. Grazie.